Da qualche settimana, quindi da quando sto portando sostanzialmente questa rubrica qui, abbiamo affrontato vari discorsi perché abbiamo parlato di nazionale, abbiamo parlato di calciomercato, in chiave Ibrahimovic, Milan o comunque dove andrà lo svedese e abbiamo parlato di Maurizio Sarri, l'allenatore della Juventus che sta facendo discutere, insomma la settimana scorsa ma vi lascio il video nelle schede. Non possiamo, ad oggi, non parlare della Lazio perché in un campionato dove il Cagliari è senz'altro la squadra rivelazione perché è in zona Europa, sta facendo benissimo con Maran, gioca un gran calcio in una stagione in cui l'Atalanta, al primo anno in Champions, si qualifica agli ottavi essendo la rivelazione anche lì se penso a squadra rivelazione, se penso a squadra che sta facendo davvero tanto bene penso proprio a quella capitolina, ai Biancocelesti, di Simone Inzaghi e non cito a caso questo allenatore qui perché secondo me è parte integrante, parte fondamentale del progetto Lazio ed è soprattutto grazie a lui che i Biancocelesti stanno facendo sempre meglio in questi anni prima di dirvi la mia però, vi invito subito a commentare il video qui sotto, dicendomi la vostra ma tanto su Instagram, e ne approfitto anche per ricordarvi di seguirmi vi ho chiesto di mandarmi un vostro messaggio vocale, appunto con il parere sulla Lazio, su Simone Inzaghi, eccetera, eccetera e allora partiamo con il mio pensiero e poi sentiamo il vostro aiutandomi con OneFootball, che è la mia app di riferimento a 360 gradi sul mondo del calcio vorrei un attimino andare a focalizzarmi sull'ultima partita che ha giocato la Lazio ovvero quella vinta a Cagliari al 98esimo guardiamo assieme la formazione Stracoscia tra i pali e poi 3-5-2 con Acerbi, Felipe e Radu Lukas Leiva perno a centrocampo con Milinkovic, Savic e Luis Alberto da interni gli esterni sono Lazari e Lulic e le punte Immobile e Correa poi guardiamo anche la panchina perché in questa gara in particolare sono stati fondamentali i cambi ad esempio Caicedo al posto di Radu, ma anche Cataldi al posto di Lukas Leiva e Johnny al posto di Lulic in panchina sono rimasti Kissanga, Proto, Adecanie, Parolo, Anderson, Marusic, Guerrieri, Berisha e Patrick cosa possiamo notare dalla formazione che abbiamo appena visto? praticamente dalla rosa della Lazio 2019-2020 io un po' di cose le noto, vediamo se ci arriviamo insieme la prima è che la formazione titolare è quella della passata stagione sostanzialmente ma forse anche di due anni fa e quindi la chiave, la forza proprio della Lazio di Simone Inzaghi è l'intesa, come fossimo sul team e team su FIFA l'intesa conta tantissimo nel calcio costruire pian pianino negli anni un progetto, una squadra dei giocatori che ormai veramente giocano a memoria e quello conta tantissimo a volte è più importante quello rispetto a comprare 10-15 giocatori anzi può diventare controproducente fare troppo mercato d'estate o d'inverno questo la Lazio lo sa bene ci fa gioco anche lo Tito per una serie di motivi poi ci sono anche dei contro i contro ad esempio è che mentre leggevo la panchina, le riserve alcuni giocatori non li conoscevo nemmeno e non credo di essere l'unico il senso è che spesso non vengono proprio utilizzati motivo per cui Inzaghi è stato anche additato spesso non fa turnover di qua e di là motivo per cui in Europa League si è sofferto un pochino forse addirittura volontariamente nel senso che non era comunque la competizione di interesse e quindi si è deciso di non concentrarsi al 100% su quella Coppa lì al contrario di quella che può essere una Coppa Italia o comunque anche una zona Champions attualmente la Lazio in campionato è messa benissimo aiutiamoci sempre con OneFootball e guardiamo un attimino la classifica della Serie A perché l'Inter e la Juventus guidano a 39 punti poi i biancocelesti sono a 36 a più 4 sulla Roma e poi via via tutte le altre 36 punti non solo 3 punti dalla vetta ma soprattutto un terzo posto che in chiave realistica è il massimo a cui può ambire la Lazio quest'anno è ovvio in questo momento ripeto i punti dalla vetta sono 3 sarebbe facile farsi prendere dall'entusiasmo pensare a Scudetto o altro no per più motivi Inter e Juve hanno rose superiori negli 11 titolari e nelle riserve e quindi è normale che a lungo andare con la stagione e con gli impegni che comunque ci saranno perché la Lazio avrà anche la Coppa Italia credo che meglio di così non riuscirà a fare forse anche peggio nel senso che potrebbe scendere di una posizione c'è un discorso continuità che va fatto e lì e lì la Lazio spesso ha stentato almeno in questi anni perché per una serie di motivi veramente dal discorso rosa corta a un problema mentale se vogliamo nel senso che spesso abbiamo visto in alcuni periodi una squadra giocare a memoria giocare molto bene in altri periodi perdersi in un fazzoletto perdere punti in modo sciocco senza un motivo per poi arrivare a fine campionato e di base pentirsi mangiarsi le mani e altro ricapitolando ad oggi secondo me la Lazio è una squadra che in territorio nazionale quindi in Serie A può fare davvero molto bene perché comunque negli 11 ha una squadra rodata forte se vogliamo e quindi che può ambire quantomeno la zona Champions League ripeto secondo me il massimo ma credo secondo la maggior parte di voi tra poco sentiremo anche i vocali e poi c'è un grande allenatore c'è un grande allenatore che nei suoi limiti se vogliamo ha quelli di far giocare sempre gli stessi ma ha detto tra noi chi ci mette nel senso che poi la rosa è quella lì l'abbiamo anche analizzata prima un allenatore che in estate si diceva poter essere anche vicino alla Juventus prima che arrivasse Sarri e a me non non dispiaceva l'idea nel senso analizzandola in modo oggettivo e obiettivo pensavo che Inzaghi potesse essere comunque un profilo interessante per la Juventus per farvi capire la mia concezione di quell'allenatore lì poi ovviamente ognuno ha il suo pensiero e il vostro scrivetelo qui sotto nei commenti detto questo telefono alla mano chiudiamo OneFootball apriamo Instagram e sentiamo il vostro pensiero sulla Lazio partiamo da Cigni77i-Basso codice fiscale in pratica che credo sia un tifoso della Lazio almeno da quello che mi scrive poi sotto il messaggio vocale quindi sentiamo un po' il suo pensiero ma guarda Fede io da da raziale romano non posso compaesano che dirti che la Lazio deve andare in Champions non è la domanda non doveva essere dove può arrivare la Lazio ma dove deve arrivare la Lazio la Lazio quest'anno deve andare in Champions League perché secondo me se non ci va quest'anno questa è una condizione stratosferica non ci andrà mai più per quanto riguarda lo scudetto sinceramente io neanche ci penso anche se stiamo attualmente a meno tre dallo scudetto e pensa che se vincevamo contro contro la SPAL che è una squadra che è scappata da casa ma che meno stavamo primi però vabbè pensiamo al futuro e ti stavo dicendo io sono dell'opinione che non dobbiamo pensare allo scudetto e che come ha detto Nzaghi il nostro unico scudetto è la Champions League e questo secondo me rappresenta anche un pochino il pensiero comune di molti tifosi della Lazio poi ascolteremo gli altri per rispondere rapidamente a Cigni quello che volevo dire sostanzialmente è che è vero la Lazio deve andare in Champions perché negli ultimi anni è stato un passo e perché quest'anno sembra molto più in forma rispetto al passato è anche vero e poi qui ognuno ha il suo punto di vista che dipende anche come ci vai in Champions nel senso che ad oggi a parte l'11 forse 12-13 giocatori di livello c'è poco quindi andare in Champions significa anche dover fare un mercato di livello e non so quanto lo dito si è intenzionato a fare quel tipo di mercato lì perché la politica Lazio è sempre stata diversa è oggettivo questo poi vedremo nel senso che per farsi le ossa in Champions League bisogna andare in Champions League c'è poco da fare non puoi pensare di andare soltanto quando sei pronto per vincerla devi fare le figuracce devi crescere devi annusare la competizione e passarci degli anni cosa che la Lazio non sta facendo quindi potrebbe anche essere costruttivo andarci senza fare mercato e perdere 5-0 tutte le partite secondo me non tutti la pensano così quindi fatemi sapere la vostra sentiamo che cosa ci dice Mirko allora io penso che questa Lazio se continua a giudicare in questo modo siamo giuguali veramente molto spumeggiante può veramente rimanere in quella posizione però veramente arrivare in Champions e penso che comunque dopo due anni due anni e mezzo penso che Inzaghi se lo merite comunque il gioco è veramente penso il più sottovalutato della Serie A perché nessuno gli sta dando i meriti a Inzaghi perché Inzaghi viene sempre definito come quello rosicone e tutto però nessuno gli sta dando i meriti per quello che sta dando la Lazio come stile di gioco e tutto penso che rimarrà terza e niente ciao Fede non so se rimarrà terza però per il resto sono abbastanza d'accordo con lui nel senso che Inzaghi non è l'allenatore simpatico di turno che si fa volere bene da tutti spesso è uno che parla che non parla per prendere applausi ma parla per prendere critiche se vogliamo perché va un po' contro gli arbitri in alcuni casi contro tra virgolette il sistema in altri però comunque sia poi se si parla di campo i risultati li ha portati e secondo me ma credo di essere stato abbastanza esaustivo su questo ha portato e sta ottenendo molto di più di quello che potrebbe ottenere questa rosa qui quindi spero di essermi fatto capire cioè sta facendo meglio con una rosa andiamo avanti Anto Zazzaro vediamo che ci dice ciao Federico riguardo alla Lazio ti dico che secondo me è una squadra che questa stagione può puntare veramente alto lui è il nico di di mobile sta giocando un calcio bellissimo e meritano perché sono comunque una squadra che non vince da tantissimi anni quindi secondo me un titolo mare anche nuovamente la coppa Italia ma chissà anche uno scudetto lo meritano secondo me allora non credo che lui fosse laziale perché ha usato sempre questa terza persona plurale lo meritano dovrebbero di qua di là ti dico che non vince da tanto in realtà è poco vero perché comunque Coppa Italia Supercoppa sono trofei che sono arrivati comunque in questi anni se non sbaglio due Coppa Italia negli ultimi cinque quattro adesso precisamente non ricordo comunque negli ultimi anni ci sono state e anche un paio di Supercoppe o comunque finali insomma la Lazio è sempre lì per quanto riguarda competizioni nazionali perché c'è più interesse in quella in quella direzione quindi lo scudetto ecco il grande trofeo l'unica cosa che in Italia non vince nessuno a parte la Juventus praticamente ma comunque questo è mi fermo anche perché il mio pensiero credo e spero di avervelo esposto in modo chiaro ed esaustivo avete sentito anche i ragazzi che mi hanno scritto su Instagram anzi meglio dire mi hanno parlato mi hanno dato messaggi vocali su Instagram non potete parlare qui sotto nei commenti ma potete scrivere quindi fatemi sapere il vostro di punto di vista e ovviamente consigliatemi anche un argomento del quale magari parlare o affrontare o discutere la prossima settimana detto questo vi invito anche a lasciare un mi piace se siete d'accordo comunque se vi sta piacendo questo format che per me è sempre molto importante se siete nuovi iscrivetevi al canale un bacione never give up e bella regà grazie a tutti Grazie a tutti